Il Nave Cortine Il Nave Cortine, dopo una mara retrocessione in prima categoria, avvenuta a termine della scorsa stagione, ha deciso di partire con uno staff dirigenziale totalmente innovato, una nuova rosa e una nuova guida tecnica. Alessandro Paderno, ti chiedo come mai il Nave Cortine? Perché mi hanno voluto fortemente e mi è piaciuto questa cosa. Penso che è importante, se tu lo fai per passione, avere dall'altra parte, essere corrisposto con un grande entusiasmo e quindi questo mi è piaciuto molto. Al di là di obiettivi, di cose, al di là che poi la società Nave Cortine è una società importante nel calcio bresciano. Quindi assolutamente sono stato subito preso da questa cosa. Abbiamo voluto fortemente e è bene. Secondo il presidente della squadra Granata, Filippo Becchina, l'obiettivo è uno solo. Quello di risalire immediatamente. Abbiamo preso un allenatore che piace il bel gioco, perciò quindi sicuramente avremo anche dei risultati sul piano del gioco. Poi l'anno scorso è successo un po' di tutto e quest'anno il nostro obiettivo principale è che abbiamo rivoluzionato la squadra perché abbiamo preso 13 giocatori nuovi, abbiamo cambiato tutto lo staff tecnico con l'obiettivo principale quello di cercare di risalire il prima possibile in promozione perché dopo 14 anni di promozione ci è scocciato alla grande a retrocedere in prima. Secondo me, secondo la nostra società, la categoria di promozione è quella più giusta per la nostra società. La nostra società è la nostra società, la nostra società è la nostra società.